la volta con calma senza numeri quindi non c'è una regola le prime cinque macchine vi mantenete vicino alle macchine e vi avviseranno i commissari di entrare nel percorso effettivamente sincronizzati il piede con la macchina cioè quando si scala bisogna alzare il piede dall'applicazione del motore e solo in questo modo si effettua la cambiata non è come si deve essere moderne quando si scala vedete che arrivano qua le macchine sono Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.